Una mappa digitale e una versione cartacea per andare incontro a chi con la tecnologia non ha molta confidenza. Il tutto per avvicinare il welfare ai cittadini. È la mappa della comunità solidale del municipio 2, su cui sono indicati i servizi per chiunque ne avesse bisogno in ambito culturale e sportivo, benessere psicofisico, servizi sociosanitari, procedure amministrative e case di comunità. Ci sono delle aree di servizi, cliccando su quelle aree c'è poi una sottotipologia di servizi con i riferimenti, quindi contatti telefonici, contatti email, nomi di associazioni a cui può rivolgersi. Ovviamente può essere anche che quell'associazione in quel momento non ha una risposta concreta da dare ma può rimandare il cittadino ad un altro servizio pubblico privato che magari quella risposta ce l'ha. L'invito a creare questa rete è partito un anno fa dalla Commissione Consigliare Welfare del municipio 2. A rispondere sono state circa 25 realtà del terzo settore. È un modo innovativo di operare nel welfare e soprattutto di proporre il municipio come un ente che fa comunità con i cittadini e con gli operatori che svolgono welfare sul territorio.